Buonasera, argomento importante, quindi aprite bene le orecchie, perché secondo me questa cosa non l'ha capita ancora nessuno. Allora, come è mio dovere, in quanto vostro rappresentante, non posso essere la maggioranza, come cerco di spiegare a tanti di voi, ma posso cercare di spiegarvi come funzionano le cose, in modo tale che ci si sappia regolare. Parliamo di legge di bilancio, che ha cominciato a essere trattata oggi in Commissione bilancio con le prime audizioni. E parliamo di una cosa molto più importante, vale a dire il famoso Recovery Fund. Vi ho parlato spesso del Recovery Fund, vi ho detto come secondo me è una fregatura, ve lo ripeto, secondo me il Recovery Fund è una fregatura, perché si compone di due parti, una parte di prestiti, e i prestiti sono condizionati, probabilmente privilegiati, e quindi al lato pratico sono il MES. Quindi non si capisce che cosa dobbiamo farci noi con i prestiti dell'Unione Europea. Tenuto presente che, come abbiamo spiegato tante volte in questi giorni, i prestiti realizzati con l'emissione di titoli di Stato, vengono comprati dalla Banca Centrale, e se non ci piace la parola cancellati, perché altrimenti trattano male persino il povero Sassoli, ma in ogni caso sono rinnovati costantemente. Essendo che sono rinnovati costantemente, è come se noi non li dovessimo restituire. Altro passaggio, i soldi a fondo perduto, i soldi a fondo perduto sono parte del bilancio dell'Unione Europea. Cosa significa? Significa che noi riceviamo dei soldi, ma ne dobbiamo anche dare, perché altrimenti chi ce li regala questi soldi? Qualcuno come un mio interlocutore in una trasmissione questa settimana dice ci regalano i soldi, io non gli sputo in faccia a chi mi regala i soldi, e io dico chi ce li regala? Ce li regala il bilancio dell'Unione Europea e chi partecipa al bilancio dell'Unione Europea? Sempre noi. Quindi significa che noi mettiamo dei soldi ogni anno nel bilancio dell'Unione Europea e ne riceveremo degli altri, anche in questo caso condizionati, anche in questo caso privilegiati, per fare cose che l'Unione Europea ci dirà di fare. Ora, dato che abbiamo una certa esperienza su come funzionano i bandi dell'Unione Europea, sappiamo che i soldi che ci mettiamo sono certi, i soldi che riceviamo no. Per cui anche la parte a fondo perduto, quella secondo cui noi per la prima volta siamo avvantaggiati perché riceveremo più soldi di quelli che ci mettiamo, dal mio punto di vista non contengono alcun regalo. Quindi se a me facessero scegliere, io i prestiti ovviamente non li voglio perché stiamo parlando di mess, camuffato in un'altra maniera e invece i quelli a fondo perduto, se posso scegliere di non metterci la mia quota e non ricevere la mia quota, questo io sceglierei. È evidente poi che se ci mettono dentro a viva forza bisognerà far buon viso a cattivissimo gioco e partecipare con dei bellissimi programmi europei su come spendere meglio questi soldi. Purtroppo, altrimenti il risultato cos'è? Che paghiamo e non li riceviamo, non mi sembrerebbe il caso, ma se potessi evitare direttamente di partecipare, quindi sia di pagare che di ricevere, non esiterei. Cosa succede tante volte all'imprenditore, all'uomo della strada, quello che è stato abituato a sentire tutto un gran argomento sui miliardi che piovono, i miliardi sono tanti tanti tanti, questa volta e così via, che dicono pazzo Borghi, rifiuti i soldi dell'Europa e adesso una volta che noi li possiamo prendere tu non li vorresti perché tu oddi così tanto l'Europa che ci affami e quindi non ci fai prendere i soldi per la crescita, per l'ospedale, in buona sostanza. Tutti quelli che in qualche maniera a torto, e io penso che sia questo il caso, o a ragione, pensano di poter mettere le mani su una parte di questi soldi, ogni volta che tu gli dici ma io non li prenderei, non capiscono più nulla e cominciano a perdere, bavano dalla bocca dicendo ecco ecco cattivo. Bene, io oggi vi dimostro che questi soldi non servono perché lo Stato li ha già previsti. Quindi l'argomento se noi non partecipiamo ai fondi europei non abbiamo i soldi, cade oggi. Se noi non partecipiamo al programma Next Generation EU Recovery Fund, chiamalo come vuoi, i soldi necessari per farci quello che vogliamo e anche con molti meno vincoli, ci sono già. Volete sapere come? E ve lo dico io. Legge di bilancio, in questo momento in trattazione in commissione bilancio, la mia. Articolo 184. In pochi ce l'hanno, se qualcuno fa lo sforzino di andare sul sito della Camera, lo trova. Perché l'articolo 184? Come al solito, le fregature devono essere messe in mezzo quando chi legge è stanco. Ve l'ho insegnato un milione di volte questa tattica da parte del Deep State. 200 articoli, dove va la fregatura? 184. Mai uno. Uno è quello che vogliono far vedere, due anche, tre pure. 184. Articolo 184. Norme per l'attuazione del Next Generation EU. Ve lo leggo, così evitiamo sintesi. Io vi leggo l'articolo della legge di bilancio. Non ci credete? Andate sul sito della Camera, prendete il testo della legge di bilancio e leggetevelo voi. Per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del programma Next Generation EU. Il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, con una dotazione complessiva di, udite udite, 120.653 milioni di euro per il triennio 2021-2023. 120.653 milioni di euro. Detto in altre parole, 120 miliardi di euro. Ok? È passato il concetto? Ripartiti come indicato nel prospetto che segue. Prospetto. Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia. Anni 2021 34,7 miliardi. 2022 41,3. 2023 44,6. Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del programma Next Generation EU. In particolare sono stanziate risorse in via di anticipazione per il Recovery and Resilience Facility per complessivi 104.471 milioni di euro, quindi 105 miliardi, nel triennio 2021-2023 per la quota relativa ai contributi di fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto alla legislazione vigente. Sono inoltre stanziate nell'ambito del fondo risorse relative a React EU, altro bel programma Unione Europea, per complessivi 14.700 milioni di euro. 14.7 miliardi. Però capite, preferisco leggerlo quasi con i milioni di euro, così almeno capite di cosa si sta parlando, quando uno dice, caspita, ma se ci fosse questo milione di euro per fare questa cosa, 14.700, 104.471 milioni, ok? E ulteriori programmi europei della Next Generation EU. Ah, eccoli qua. I commi da 2 a 3 disciplinano le modalità di utilizzo delle risorse. Il comma 4 disciplina il caso in cui gli interventi comportino minore entrate, così via. Il comma 5, la norma prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione Europea per l'attuazione del recovery resilience facility, cioè la volta che forse eventualmente, ma non si sa, l'Europa dovesse effettivamente pagare questi soldi, che ricordiamo al momento non esistono, sono bloccati da veti e così di questo tipo, qualora dovesse versarli, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sui capitoli rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse erogate dall'Unione Europea per il programma Next Generation EU, oggetto di anticipazione nazionale da parte del fondo di cui al comma 1. Per non farci negare nulla, oltretutto, si prevede l'istituzione di un posto in funzione di livello dirigenziale, perché è così uno che cura, e poi una ventina di un apposito sistema informatico, e se non mi ricordo male, sempre nel capitolato ci sono anche, eccolo qua, vedi, al fine del separato, sono resi disponibili nell'ambito, un'altra ventina di posizioni, di assunzioni per far assumere della gente che curino questi due fondi, perché nel MEF, nel Ministero dell'Economia, non ci sono abbastanza di persone dirigenti, allora ne mettiamo qualcuno che guardi questi soldi. Allora, avete capito? Se non avete capito ve lo spiego in modo impossibile da non capire. Lo Stato ha aperto dei conti correnti presso il Ministro del Tesoro e ci ha già messo fuori bilancio tutti i miliardi relativi al programma per una cifra di 120 miliardi. Ci sono già. Da dove arrivano questi soldi? Da dove arrivano tutti gli altri, dall'emissione di titoli di Stato, comprati dalla Banca Centrale, e quindi questi soldi sono già allocati e possono già volendo essere spesi. Che cosa succede quando e se arriverà il Recovery Fund? Semplicemente questi fondi che nel frattempo sono stati svuotati si riempiono con i soldi arrivati dall'Unione Europea e quindi al lato pratico c'è una sostituzione del creditore. Significa che per questi fondi invece di avere come creditore soltanto titoli di Stato e quindi o risparmiatori o Banca Centrale, noi avremo come creditore l'Unione Europea. Ma come vi ho spiegato non è esattamente la stessa cosa. È meglio avere come creditore i titoli di Stato o è meglio avere come creditore l'Unione Europea? Direi che non c'è dubbio su cosa è meglio. Non c'è dubbio. I titoli comprati dalla Banca Centrale verranno sempre rinnovati, se non cancellati perché l'idea è troppo radicale, ma verranno costantemente rinnovati, quindi non li dobbiamo restituire e gli interessi che vengono ricevuti da questi, che vengono pagati dallo Stato su questi titoli, vengono ritornati allo Stato per tramite di Banca d'Italia. Non credete a me, ve l'ha detto persino, è riuscito ad arrivare a Digliolo, gli hanno tirato fuori come la polpa dalla chela di un astice, ve l'ha detto persino Cottarelli che funziona così nell'ultimo articolo. Quindi questi miliardi sono soldi ottenuti a costo zero e a restituzione zero. sostituirli con i soldi che arrivano dall'Unione Europea, li trasforma in soldi da restituire, sia alla scadenza, sia per tramite del bilancio dello Stato, con interessi che si pagano all'Unione Europea e con le condizionalità dell'Unione Europea. Quindi, chi vi dice che se noi non partecipiamo a questi programmi dei fondi, miliardi e cose di questo tipo, non possiamo spenderli, non possiamo utilizzarli, cosa facciamo, gli ospedali, gli ospedali, i bambini che muoiono, e così di questo tipo, vi dice delle balle, perché i soldi sono lì e sono già previsti in legge di bilancio e noi possiamo spenderli come vogliamo e nel momento stesso in cui questi soldi vengono sostituiti da altri fondi dell'Unione Europea, la nostra situazione non è migliore ma è peggiore. Questo è scritto nella legge di bilancio, tanto vi dovevo, la prossima volta che qualcuno dice, ma se noi non partecipiamo al recovery fund e così di questo tipo, chi ce lo dà ai miliardi? Mettetegli sotto il naso l'articolo 184 della legge di bilancio che vi dice che questi soldi già ci sono, senza bisogno dell'Unione Europea. Arrivederci.